buongiorno amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi giovedì 27 giugno 2024 e vediamo subito qual è il santo del giorno per fare gli auguri all'onomastico di chi si chiama Cirillo non ce ne saranno tanti che hanno questo nome un nome che veniva usato nell'antichità oggi è un pochino più così più scaso ma forse è ancora usato nei paesi dell'este però il Cirillo di cui parliamo non è un Cirillo russo o slavo è un Cirillo che proviene da Alessandria San Cirillo d'Alessandria eccolo qua fu un grande fu un grande difensore della fede trionfatore del concilio di Efeso estremo proclamatore della divina maternità di Maria a cui aveva una devozione veramente molto molto grande questo è San Cirillo vediamo subito procediamo in fretta con le previsioni del tempo ecco vediamo che dopo l'instabilità nei giorni scorsi sembra tornare il tempo buono su tutte le marche vediamo che il sole si estende su tutta la regione stabilità e bel tempo prevalente con qualche nuvola in più sulle aree appenniniche al pomeriggio i valori massimi saranno sui 29 31 gradi questa è la temperatura massima 18 18 la minima i venti sulle coste da nord sull'entroterra da ovest nord ovest il mare è calmo il sole sorto alle 5 26 e tramonterà alle 20 e 51 questo per il momento è quanto ci dicono le previsioni del tempo e allora noi apriamo i giornali diamo subito un'occhiata alle notizie del giorno a partire da un aggiornamento per quanto accaduto l'atroce vicenda di via fanella per quanto riguarda via fanella il corriere adriatico che è tornato regolarmente in edicola dopo la defaianza di ieri c'è stato un problema al sistema informatico e quindi non ha potuto arrivare nella distribuzione oggi è tornato regolarmente in edicola eccolo qua abbiamo ancora due pagine che si dedicano a questa questo episodio che ha veramente suscitato una grande una grande sensazione in tutta la città aggrediti a sorpresa e uccisi senza pietà è il titolo purtroppo un titolo realistico un titolo che evidenzia quanto quanto è avvenuto il padre è stato ammazzato nel letto con 11 martellate la madre strangolata in cucina con un filo elettrico e quanto emergerebbe dall'autopsia che è stata compiuta ieri mattina a Fano dai medici che sono stati incaricati dal magistrato appunto di desumere ancora ancora notizie per certificare veramente quanto è avvenuto e in questa tabella questa tabella che vediamo qui in questa pagina abbiamo tutto il la sequenza abbiamo tutta la sequenza di quanto è avvenuto quella notte tragica tra domenica e lunedì scorso vediamo un attimo alle ore 1 e 30 era di notte nel cuore della notte luca ricci il figlio della coppia scende nell'appartamento dei genitori lui abitava al primo piano i genitori nel piano terreno dei di via 125 a di 125 b in via fanella ebbene cosa fa scende per prendere il l'apparecchio misuratore della pressione che apparteneva alla madre per misurare la sua pressione ma in quel momento ha già in mente qualcosa nella sua testa frulla un argomento veramente drammatico aggredisce la madre prendendola alle spalle strangolandola con questo filo va in camera da letto e mentre il padre dormiva lo colpisce con un corpo contundente è stato trovato poi un martello su cui ancora però le indagini sono in corso si vuole accertare veramente che sia lo strumento che sta che ha così è stato lo strumento del delitto compiuto dal figlio alle due torna di sopra torna nel proprio appartamento e nella sua cameretta c'è il figlio di 17 anni che dorme e lui in quel momento aspetta l'alba non si sa se si si sia addormentato oppure si è rimasto sveglio comunque alle 7 è già pronto per accompagnare il figlio a pesaro alla scuola dove segue un corso di recupero alle 8 e 10 torna a casa in via fanella e chiama il 112 avvertendo di aver trovato i genitori morti in casa ebbene arrivano subito si precipitano i mezzi degli delle forze dell'ordine come la polizia i carabinieri l'ambulanza del 118 addirittura anche i vigili del fuoco perché si temeva anche una fuga di gas ebbene dopo cominciano subito l'interrogatorio e gli inquirenti accentrano la loro attenzione proprio nel figlio della coppia che alle 10 e 30 viene portato in commissariato a Fano ebbene poi procedono tutti gli interrogatori alle ore 21 qui pensate dalle 10 e 30 fino alle 21 di sera passato sotto torchio questo questo inquisito arrivano le prime ammissioni sul duplice delitto alle 22 viene interrogato dal PM e comunque si comincia a capire che lui veramente era l'autore di questo delitto e beh ancora ci saranno ci saranno delle delle indagini per riuscire poi a inquadrare tutto e di mettere tutto le caselle al posto giusto non si sa se è stato un raptus improvviso ma forse qualcosa dice che tutto è stato preordinato al centro di tutta questa macchinosa situazione c'è stato un problema economico e lo vediamo qui espresso anche dal resto del Carlino il racconto delirante del figlio non volevo farli più soffrire ha dichiarato lei strangolata lui preso a martellate eseguite la doppia autopsia emergono dettagli sciocche del delitto dei coniugi ricci per mano del cinquantenne ebbene questo è quanto riguarda la situazione del del meccanismo appunto che è stato usato per compiere l'assassinio però insomma all'origine di tutto questo c'era il problema economico 12 mila euro servivano per pagare l'affitto di due anni ai genitori che avrebbero dovuto restare nella loro casa che non era più la loro in quanto era stata messa all'asta e il proprietario aveva concesso alla coppia di rimanere nella loro casa pagando un affitto di 500 euro al mese però voleva una somma anticipata di due anni quindi servivano 12 mila euro e sembra proprio che questo vediamo qui in questo supplemento di articolo il nuovo proprietario voleva dai coniugi 12 mila euro chiesto l'anticipo di due anni casa all'asta per l'affitto insomma questo non doveva essere strano a quanto è accaduto ed ora la comunità si stringe soprattutto alle vittime primis di questa tragedia e anche di chi ha sofferto ovvero dei parenti dei nipoti dei figli di tutti coloro che soffriranno per quanto è accaduto sembra che i funerali della coppia vengano svolti sabato nella chiesa di fano 2 comunque ancora tutto è da decidere nei particolari vediamo ora le altre notizie passiamo al resto del carlino per vedere gli sviluppi del episodio di adulterazione del prodotto della bella fattoria marchigiana colli al metauro lo vediamo qui in questo articolo latte adulterato l'inchiesta primi interrogatori e riparte la produzione a giorni la procura della repubblica assenterà i dieci indagati accusati anche di frode in commercio depositata una prima parte della consulenza sui campioni dei prodotti le indagini in questi giorni sono procedute dopo che si è scoperto che insomma si usava una soda caustica e acqua ossigenata per correggere l'acidità del latte avariato utilizzato per la produzione dei formaggi allora in questi giorni ci sono stati primi interrogatori per l'inchiesta che ha coinvolto la fattoria marchigiani una controllata dalla dalla trevalli coperlat una delle ditte più importanti che producono appunto prodotti caseari nel nostro territorio dai prossimi giorni già in settimana inizieranno essere ascoltati dieci indagati a cui è stata recapitata l'informazione di garanzia che li mette a conoscenza dell'accusa nei loro confronti un'accusa per i reati di adulterazione del prodotto e frode in commercio lo ricordiamo che erano state sequestrate circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattieri caseari insieme a circa due tonnellate in mezzo di sostanze sofisticanti insomma tutto questo ora dovrà messe e dovrà essere messo nelle caselle giuste per poi procedere in tribunale torniamo al corriere adriatico e vediamo la pagina di fano dove l'apertura è dedicata ad una riunione che si è svolta ieri nella sala della concordia tra la nuova giunta presieduta dal sindaco luca serfilippi e tutti i commercianti di piazza andrea costa piazza andrea costa da tempo ormai da diversi mesi è oggetto di scavi per il rifacimento della superficie per l'arredo che deve essere fatto ma lì ci sono anche delle indagini archeologiche di grande di grande importanza e questo ovviamente ha tardato l'esecuzione dei lavori da parte della ditta che ora dovrebbe procedere anche in un altro settore della piazza perché tutta la piazza dovrebbe essere appunto interessata dal rifacimento della superficie però è un cantiere problematico lo ha detto lui stesso il sindaco luca serfilippi parlando questa riunione devo dire subito che si è risolta con un esito positivo c'è stato un accordo tra l'intento l'intento della giunta e quello che hanno detto i commercianti sia gli ambulanti che i pesce vendoli che i negozianti a posto fisso la giunta ha incontrato i commercianti e ha raggiunto un accordo per quanto riguarda il procedere dei lavori tra qualche giorno dovrebbe essere terminato tutto l'intervento nella zona oggetto dei lavori quella che si estende tra il meccenzi e via arco d'augusto per intenderci quella prospicente al ristorante il bello e il bello e la bestia e poi si dovrebbe procedere invece nel tratto che dalla pescheria arriva fino a via monte vecchio quello è il nuovo tratto di indagine dunque una nuova road map che dovrebbe poi proseguire fino al mese di ottobre e poi c'è anche l'intervento nella pescheria dove verrà ripulito e non rifatto perché visto che la ripulitura la ripulitura ottiene un risultato apprezzabile verrà ripulito tutto il pavimento verranno rifatti gli intonici verrà rifatta l'illuminazione e anche la pescheria assumerà un valore estetico che ovviamente avrà anche un risultato di carattere igienico sanitario perché insomma lì la situazione non è un granché e qui ci fermiamo passiamo alle altre notizie no no ce n'è un'altra invece che riguarda fano e la vediamo qui a fondo pagina del corriere adriatico è una risposta del sindaco luca serfilippi a quanto aveva dichiarato l'ex assessore al welfare di comunità dimitri tinti il quale aveva denunciato per quanto riguarda l'assegnazione dei posti alle presidenze di fascia b insomma quelle che sono extra giunta aveva denunciato una spudorata spartizione di posti per accontentare appetiti personali e partitici ebbene a questa dichiarazione risponde il sindaco serfilippi che replica e riconduce la contrarietà espressa nei mesi scorsi dallo schieramento che lo sostiene alla mancata condivisione del terzo settore e appunto per riavvicinare di più la politica alle persone lo stesso serfilippi ha detto che convocherà gli stati generali quindi quello del terzo settore per quanto riguarda l'azienda speciale alla persona nei primi 100 giorni del mandato proprio di questo ha dato in carico al nuovo assessore servizi sociali lucia starsi che dovrà occuparsi appunto di questo importante settore e adesso procediamo a isola del piano dove c'è una rimostranza determinata dal presidente della provincia giuseppe paolini ad una decisione della regione la regione infatti ha cancellato il finanziamento di 240 mila euro assegnato all'esecutivo precedente alla fattoria della legalità si tratta del primo bene confiscato alla criminità delle marche divenuto negli anni un simbolo dell'antimafia nella provincia di pesaro urbino dove la lotta al tentativo di ingresso della mafia è stata molto determinata la notizia purtroppo di questa revoca del finanziamento è divenuta ufficiale nel corso del consiglio regionale di martedì scorso e a questo punto paolini reagisce dicendo quello che è imbarazzante è un altro punto un consigliere regionale di maggioranza mi ha rivelato che il finanziamento è stato cassato dalla regione perché sono un sindaco di sinistra ma un bene confiscato alla mafia non appartiene a un comune è di un'intera comunità insomma desta un po' perplessità questa revoca di questo finanziamento passaggi il festival passaggi oggi l'inaugurazione anche se insomma ieri ci sono svolte diverse iniziative l'inaugurazione sarà in piazza 20 settembre questa sera ci sarà anche il presidente della regione marche francesco acquaroli ovviamente sarà tutti i politici della nuova amministrazione fanese e verranno assegnati i premi come primo atto il premio fuori passaggio verrà conferito al conduttore autore televisivo radiofonico alessandro catellan per aver promosso la nascita della nuova casa editrice a cento e poi luigi manconi riceverà il premio passaggi 2024 assegnato a chi si è particolarmente distinto per la statura morale e produzione editoriale due premi importanti che hanno così assunto anche un rilievo di carattere nazionale e poi ci saranno tutti gli incontri tutte le iniziative nelle varie sedi nel chiostro delle benedettine alla memo nella chiesa di san francesco questa mattina ci sarà lo stesso l'apertura della giornata al bonbon dove si presentano dei libri dove si può fare una buona colazione e allora passiamo adesso al resto del carlino abbiamo visto le pagine dedicate alla cronaca e vediamo la pagina di fano dove anche qui si parla della riunione dei commercianti per l'assetto di piazza andrea costa e qui nelle fotografie vediamo una parte dei commercianti che hanno partecipato all'incontro e qui lo stato dei lavori di piazza andrea costa la pavimentazione della pescheria lo evidenzia qui nel titolo il carlino non sarà rifatta ma semplicemente ripulita e poi e poi si procede con tutti gli altri interventi c'è anche evidenziato il crono programma che dovrebbe appunto portare a un nuovo assetto di questo punto focale importante della città di fano del centro storico di fano e purtroppo si sacrificano così lo dico marginalmente però insomma con un po di certo rammarico l'esigenza di valorizzare quello che è venuto alla luce perché quello che è venuto alla luce è stato rissepolto e li rimarrà ancora per chissà quanto tempo vitruvio vitruvio ancora alla ribalta per la terza edizione di un corso di alta specializzazione che farà parte della summer school e quest'anno ha fatto veramente un boom di iscrizioni pensate non solo sono venuti i studenti chiamiamo gli studenti sono già laureati provenienti da tutte quasi le regioni d'italia ma giunge ma giungono anche persone che arrivano dalla finlandia dal brasile dall'argentina dalla francia del perù veramente questa iniziativa ha assunto una fama nazionale internazionale e questo è un punto importante perché non si svolge in una grande città dove magari può avere una risonanza maggiore ma si svolge in una modesta diciamo così diciamo modesta però insomma noi sappiamo il valore che ha Fano città di provincia e questo aumenta ancora il valore di questa iniziativa lo ha detto proprio ieri il presidente del centro studi vitruviani Dino Zachilli che con il direttore scientifico Oscar May con il sindaco Luca Serfilippi e con il presidente della fondazione Carifano che sostiene l'iniziativa Giorgio Gragnola ha presentato tutto il programma di questa manifestazione che comincerà domenica prossima nella sala San Michele con un intervento qualificato dell'archistar Cucinella lo stesso Mario Cucinella che ha ridato il progetto della nuova biblioteca federiciana. Giriamo la pagina e passiamo a San Costanzo dove debutta la nuova giunta Falcioni. Falcioni debutta in consiglio sarà formalizzato l'ingresso tra i banchi dell'assemblea nel primo dei non eletti della lista vincitrice scusate Falcioni entra in consiglio non è lui ovviamente il sindaco della città che è Domenico Carboni il quale ha convocato il consiglio comunale per oggi pomeriggio alle ore 18.45 e che formalizzerà questa seduta l'ingresso appunto tra i banchi di Axel Falcioni primo dei non eletti della lista vincitrice direzione futuro. A lasciare il posto a Falcioni sarà l'assessore Francesca Porcu che ha deciso di fare un passo indietro in consiglio a favore del compagno di squadra e qui c'è stato dunque questo avvicendamento. A Urbino parliamo del liceo Raffaello il liceo Raffaello che viene ricostruito dalle fondamenta e il cantiere avanza secondo il cronoprogramma che è stato prefissato e se non ci saranno imprevisti tutto sarà completato entro il mese di giugno del 2026. Da alcuni giorni l'impresa WF Costruzioni ha iniziato a gettare le fondamenta di questo nuovo edificio. Il tutto è stato confermato dal presidente della provincia Giuseppe Paolini che ha dichiarato l'istituto di istruzione superiore Raffaello potrà contare sul nuovo edificio moderno e sicuro. Il cantiere procede regolarmente e si sta rispettando pienamente il programma che è stato definito. Insomma questa è una nuova iniziativa per Urbino a cui possiamo collegare anche l'avanzamento, al momento è un avanzamento un po' minimo, ma per quanto riguarda l'ex Carducci di Fano. Sono due istituti della nostra provincia che hanno seguito lo stesso iter burocratico però insomma quello di Urbino è andato più spedito rispetto a quello di Fano. A Fano è tutto demolito, ancora si deve cominciare la costruzione ma insomma la demolizione è avvenuta e adesso bisogna rimuovere l'enorme cumulo di mattoni, di cose che sono il risultato delle demolizioni dal punto dove sono state accatassate. E veniamo alla sagra della crescia sfogliata che si tiene a Castel Cavallino che è una delle iniziative gastronomiche, questa sfogliata è eccezionale perché poi con quel pizzico distrutto la crescia assume tutto un particolare sapore e profumo e quindi una bella iniziativa che si svolge in questo piccolo centro dell'Urbinate. Fattoria della legalità, negati i fondi, anche il resto del Carlino è pubblica, le rimostranze di Giuseppe Paolini il quale oltre a essere presidente della provincia è anche sindaco di Isola del Piano, niente fondi regionali, se sei un sindaco di sinistra l'accusa appunto è stata fatta dallo stesso Paolini. E con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stanta dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 nelle Tg di Fano TV Occhio alla Notizia. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie. Grazie.